In un giorno storico che sancirà il ritorno della denominazione dell'OGS a distanza di 5 anni e 11 mesi, continuano le manovre di calciomercato dell'Avellino. Priorità al completamento del reparto arretrato, già rinforzato dagli arrivi di Biraschi, Nitrianschi e Rea, dove si lavora per portare in bianco-verde il terzino sinistro Giron e si cerca di convincere il Torino a lasciare per un altro anno in prestito in Irpinia Chiosa. Capitolo Giron, la società preseduta da Walter Tacone ha raggiunto nella scorsa settimana un accordo con il calciatore transalpino portato in Italia dal Parma e nella scorsa stagione in Serie D tra le fila del Chieti, ma nelle ultime ore il Clermont, il club che lo ha lanciato, si è fatto avanti per ricevere un premio di valorizzazione che ha complicato l'affare. L'Avellino non demorde e sta avvaiando tutte le possibili soluzioni per risolvere la grana. Chiosa avrebbe invece manifestato la sua volontà di rimanere ad Avellino e vorrebbe cancellare l'ultima sfortunata parte dell'annata agonistica, coincisa con una contusione con ematoma quadricipite destro che lo ha costretto in infermeria dalla terz'ultima giornata di campionato in poi, continuando ad accumulare presenza ed esperienza all'ombra del Partenio. Una volta completato il reparto arretrato, sotto con la costruzione del settore nevralgico nel quale Arini e Schiavon hanno il contratto in scadenza a giugno 2016. Il primo, dopo aver rifiutato Cagliari, non sembra intenzionato a muoversi da Avellino e presto ci si dovrebbe sedere intorno a un tavolo per riaprire i negoziati relativi al rinnovo, presupposto indispensabile per continuare la sua esperienza vellinese. Il secondo, fatto salvo diverse valutazioni, sarà ceduto. Infine toccherà all'attacco dove tutto ruota intorno a Trotta. L'Avellino confide un grande europeo under 21 per monetizzare al meglio la sua partenza, ma se non dovesse ottenere un'offerta soddisfacente, di certo non si strapperebbe i capelli di fronte all'eventualità di poter contare ancora una volta sul suo immenso talento. Grazie 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 Grazie